ho un quarto duro il ministro ma ciò questa è andata la 3-0 certo che stai lì ehi le mani io ho parato io ho parato ehi 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 ma chi ha parato a noi è lì a chi ha parato a batterio ma chi ha cattinato il bocciano dai chi ha cattinato un cazzone bravo go tocca a un lato 3-2 1 aspetta stai in movimento tra il movimento ma che anno sta ma che anno sta ma cosa guarda guardalo 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 dai sali sali Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.